Sono giorni di polemiche, rammarico e contestazioni, ma anche di programmazione e pianificazione in casa cestistica torrenovese. Da una settimana infatti la compagine del presidente Piero Natoli è al centro di voci e discussioni riguardo una presunta trattativa in corso per la vendita del titolo di Serie B appena conquistato ad una accordata di imprenditori di Sant'Agata Militello. Ieri, con una nota ufficiale, la società ha dichiarato di non avere mai pensato di vendere il titolo a qualsiasi associazione, vicina o lontana. Fin da inizio giugno, quando è stata conquistata la promozione con la vittoria nello spareggio di Ferentino, scrive la società nella sua nota, la cestistica torrenovese Aquila Nebrodi ha lavorato per creare le migliori condizioni finanziarie, societarie e organizzative per disputare il primo storico campionato di Serie B al Palatorre. L'amministrazione comunale di Torrenova fin da subito aveva dato la disponibilità per avviare i lavori di adeguamento del Palasport torrenovese, ma l'avvicinarsi degli impegni sportivi tra scadenze federali e l'inizio del ritiro precampionato, previsto per lunedì 26 agosto, ha portato la società a considerare l'ipotesi di trasferire l'attività. Così, pochi giorni fa, la cestistica ha deciso di chiedere ospitalità al Palasport Mangano di Sant'Agata Militello, dove dunque i gialloblu disputeranno il prossimo campionato di Serie B. Il principale problema che ha spinto il gialloblu a spostarsi nella vicina Sant'Agata è di carattere economico-finanziario. Il campionato di Serie B, con le sue lunghe e complicate trasferte in Toscana e Piemonte, ha ovviamente un costo molto più elevato rispetto al torneo disputato lo scorso anno. La speranza della dirigenza è di trovare nella cittadina sant'agatese sponsor e investitori pronti a supportare una realtà che, per non buttare alle ortiche i sacrifici fatti fino a questo momento, ha bisogno del supporto di tutti.